Se vi ricordate noi vedemmo la volta scorsa, iniziamo a vedere il Vangelo di Matteo e vedemmo la genealogia, se vi ricordate, quella lista di nomi lunghissima. Abbiamo anche visto, se vi ricordate, comunque in quella realtà, in cui i nomi ci siamo anche noi. Non finisce la genealogia, ma continuano, perché continua, fin quando continua la storia, questa lista di nomi dove il Signore sceglie di incarnarsi. Ed è bello, vedete, quando noi ci accostiamo al Vangelo in queste domeniche, stiamo ascoltando il Vangelo di Matteo durante le celebrazioni eucaristiche, perciò abbiamo scelto di meditare insieme poi il Vangelo di Matteo, ci rendiamo conto quando prendiamo questo libro in mano, che non prendiamo semplicemente un libricino per ascoltare o leggere dei fatti edificanti. Che belle storielle che leggiamo, quante belle cose che ha fatto Gesù. Quasi come se ci sentissimo dei bambini e allora finalmente ci siamo un po' rassicurati, perché poi finisce con il dieto fine. Non ci accostiamo al testo in questo modo. Ci ascoltiamo con la consapevolezza di avere nelle mani un testo vivo. Dirà la lettera agli ebrei che la prova di Dio è viva, efficace, come una spada che penetra fino alle midulla e lì va a dividerti. E così noi dobbiamo accostarci al testo sacro. Se noi leggiamo un brano del Vangelo, della scrittura, dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento è indifferente e poi chiudiamo il testo e siamo così come eravamo primi, non abbiamo incontrato il Signore. Abbiamo fatto una lettura. È così come possiamo leggere un romanzo. E fateci caso, molte volte quando leggiamo un romanzo ci sentiamo appassionati. Quando leggiamo un romanzo abbiamo poi la voglia di sapere come va a finire. E sembra quasi di ritrovarci in quella storia. Ci sentiamo più coinvolti. Molte volte per il fatto di sapere già cosa forse leggiamo, non ci sentiamo tantissime volte coinvolti nel testo sacro. Provate a pensare quando durante la celebrazione, durante la messa, ascoltiamo quella parola e poi viene affermato in modo solennio e acclamato parola di Dio. Noi dovremmo spaventare, tremare. Si legge nel libro del profeta Amos, ruggisce il leone come non tremare, parla a Dio come non profetare. Eppure il rischio che possiamo essere distratti, possiamo essere assenti, mentre il Signore ci parla. Come succede anche quando parliamo tra di noi. Molte volte una persona mi parla, ma io mi trovo ugualmente da un'altra parte. Non colgo ciò che l'altro mi sta dicendo, perché sono presso dai miei pensieri. Ebbene, il Signore ha qualcosa da dire anche ai nostri pensieri. Il Signore ha qualcosa da dire anche in quelle situazioni che a noi sembrano scure, sembrano tragiche, sembrano nere, buie. Il Signore viene per mettere luce. Il Signore quasi mai viene per darci la carezza. O se ci dà la carezza, ce l'ha da dopo che ci ha spronati. Vedremo adesso nel mio brano di oggi dove sembra che sia la fine, sia un fallimento, lui arriva per dare il nuovo inizio. E noi così dovremmo accostarci a testo sacro. Sempre come la possibilità data a tutti di un nuovo inizio. Guardate, ogni volta che noi incontriamo il Signore e ci lasciamo incontrare da Lui, inizia sempre qualcosa di inaudito. Ogni volta che si incontra il Signore, la nostra storia non è più la stessa, la nostra storia cambia sempre. Però ci hai chiesto qualcosa, lo vedremo adesso nella chiamata dei primi discepoli, di lasciare qualcosa. E ve lo sapete, il lasciare non è sempre facile. E lasciare le tue sicurezze, la tua ovvietà, la tua ordinarietà, non è semplice. Lasciare qualcosa di sicuro per andare verso l'insicuro non è normale. E quindi preferisci molte volte perdere delle occasioni, però hai quelle cose tue. E se vi ricordate, nell'Antico Testamento, nel libro dell'Esodo si legge, no? Tantissime volte il popolo di Israele, dopo che finalmente ha lasciato l'Egitto, venne liberato, quando poi si trova ad affrontare il viaggio nel deserto per 40 anni, a un certo punto dirà, ma perché abbiamo lasciato l'Egitto? È vero, eravamo schiavi, però lì qualcosa da mangiare l'avevamo. Rimpiangono il piatto di cipolle al prezzo della libertà. E così, con il Signore, c'è sempre richiesto qualcosa. C'è anche un posto qui a fianco a me. Quindi dicevo, lasciamoci provocare. Vi ricordate quando Mosè sale sul monte Tav, quando sale sul monte e vede il roveto ardente? E dice, vuole avvicinarsi, perché questo roveto brucia, ma non si consuma? Noi quando prendiamo il libro, la scrittura in mano, dovremmo avere questa sensazione di prendere in mano questo roveto ardente e poter dire, ma come è possibile? Ce l'ho in mano e le mie mani non bruciano. Non si consumano. È qualcosa di grande. Non abituiamoci. E per questo rendiamo grazie a Dio. Rendiamo grazie a Dio perché ci ha donato e continua a rivelarci, a donarci la sua parola. E come nella preghiera che abbiamo fatto, gli apriamo il cuore, gli apriamo la mente, e invochiamo, l'abbiamo invocato, lo Spirito Santo perché sia Lui stesso a distruirci. E noi come scolari, come discepoli, prestiamo l'orecchio e prestiamogli il nostro cuore. Ascolteremo questa sera un brano che già abbiamo ascoltato durante la celebrazione equaristica di qualche domenica fa. E vi ricordate, noi abbiamo detto anche che non leggeremo di seguito tutto il Vangelo di Matteo, non riusciamo a farlo. Però ho detto anche lo dovete fare voi a casa perché altrimenti saltano i pezzi. Cercheremo di fare dei raccordi però poi salteranno dei pezzi. E quindi è necessario che la lettura poi integrale la possiate fare voi poi a casa del testo. Adesso andiamo a leggere un po' il capitolo quarto. Nel frattempo, da dopo che Gesù, la genealogia, la nascita di Gesù, l'annuncio, perlomeno che viene dato a Giuseppe perché nel Vangelo di Matteo l'annuncio è dato a Giuseppe, poi abbiamo l'arrivo dei Maggi, inizia poi il ministero di Giovanni Battista. Quindi c'è questo salto, ci viene consegnato Gesù dopo che arrivano lì i Maggi, fuggono, vanno in Egitto perché Erode vuole uccidere il bambino alla strage degli innocenti. E poi a un certo punto finisce così. C'è uno stacco e Gesù ritorna sulla scena come noi sappiamo secondo la tradizione a 30 anni. C'è quindi tutto un periodo della vita di Gesù dove noi non sappiamo niente. Viene chiamata la vita nascosta di Gesù. Che cosa ha fatto Gesù in questi anni? Noi non lo sappiamo. Ed è bello perché questo, vedete, da un lato dovrebbe anche invitarci ad onorare la vita nascosta di Gesù. non sempre la nostra vita è fatta di momenti dove noi siamo attivi. C'è qualche volta dove variano delle situazioni non volute forse neanche da noi ma delle situazioni esterne dove purtroppo ci costringono a stare senza far niente. Pensiamo a una crisi di lavoro. Pensiamo a un momento familiare dove purtroppo sono costretto a stare a casa per stare vicino a qualche ammalato. Noi pensiamo che siano momenti improduttivi quelli non sono momenti improduttivi forse sono momenti dove si produce di più perché noi non produciamo se facciamo solo cosa di utile a livello economico come purtroppo vogliono farci considerare. Noi produciamo quando diamo un senso a quello che siamo e a quello che facciamo anche se materialmente ripeto non stiamo facendo niente quindi anche se possiamo trovarci a casa costretti ripeto a stare a casa forse lì stiamo portando un frutto anche lì possiamo associarci a Cristo Gesù noi non serviamo a Gesù solo se facciamo qualcosa se andiamo in chiesa se facciamo del bene se facciamo la catechesi aiutiamo Cristo Gesù alla salvezza e alla redenzione del mondo anche se mi offro stando a casa in un letto o se mi offro stando a casa vicino a una persona ammalata e mi trovo vicino a una persona ammalata anche lì io sto contribuendo alla salvezza del mondo offrendola poi unendo dai sacrifici di Cristo Gesù quindi c'è questo buio che noi abbiamo mostrato di Gesù e quindi ci viene presentato subito adulto nei trent'anni e nel Vangelo al capitolo 3 non viene presentato subito Gesù ma viene presentato Giovanni Battista e viene presentato Giovanni Battista ricordiamo poco no Gesù stesso dà la definizione più bella di Giovanni Battista Gesù dirà tra i nati di donna non è sorto un uomo più grande di Giovanni Battista è Gesù che lo dice quindi tra gli uomini dice Gesù il più grande tra gli uomini è Giovanni Battista però poi aggiunge tuttavia nel regno dei cieli il più piccolo è più grande di Giovanni Battista ah mia è qualcosa di strano di straordinario perché sembra una contraddizione cioè dice tra gli uomini il più grande è Giovanni Battista però poi aggiunge nel regno dei cieli quindi c'è una divisione uno spartiacque nel regno dei cieli il più piccolo è più grande di lui allora Giovanni è il segno tra l'Antico e il Nuovo Testamento quindi nel Nuovo Testamento nell'accoglienza di Gesù in chi accoglie il Vangelo e in chi accoglie il Vangelo lo accoglie perché è chiamato a farsi piccolo piccolo come Maria di Nazareth piccolo come tutti i santi piccolo come si è fatto Gesù che si è fatto piccolo quindi in chi accoglie il Vangelo è più grande di Giovanni Battista e questi siamo noi siamo noi che possiamo vivere questa beatitudine siamo noi chiamati ad essere questi piccoli e siamo noi a ricevere questa beatitudine da parte di Gesù di essere addirittura più grandi di Giovanni Battista quindi c'è Giovanni Battista e Giovanni Battista ricordate quella sua missione quella di riparare la sala del Signore e lui quando compare sulla scena vi ricordate compare in un atteggiamento in gesto particolare quello di amministrare il battesimo lì sulle rive del Giordano il battesimo di Giovanni lo sapete non è il battesimo nostro il battesimo sacramento istituito da Cristo Gesù ma era un battesimo che invitava alla conversione invitava a cambiare mentalità invitava a cambiare vita accorrevano le folle da Giovanni Battista Giovanni Battista vi ricordate quando annunciava questo battesimo di conversione usava delle espressioni fortissime razza di vipere provate a pensare se oggi un sacerdote oppure il vostro parco dell'altare durante la messa razza di vipere come minimo ci alzeremo e ce ne andremo fuori dalla chiesa oppure come ti permetti nella migliore delle ipotesi Giovanni Battista però sanamente dice il testo che comunque nonostante questo suo messaggio così forte le folle accorrevano da lui allora lui diceva venite da me va bene però fate frutti degni della vostra conversione cioè predisponetevi e lui inizia la sua predicazione Giovanni Battista con quella frase che tutti quanti conosciamo convertitevi perché il regno dei cieli è vicino ora attenzione alla successione delle parole perché convertitevi perché il regno dei cieli è vicino noi dovremmo dire che cosa è la conversione che cosa è il regno dei cieli ma la cosa più bella sapete qual è in tutto questo che questa realtà che adesso cercheremo di dire è vicina il regno dei cieli è un'espressione per dire Dio cielo è contrapposta alla terra sulla terra chi ci sta ci stiamo noi sulla terra in cielo chi ci sta noi non ci stiamo quindi ci sta Dio in cielo quindi il cielo è quella realtà per noi inaccessibile dove abita Dio quindi proviamo a tradurre convertitevi poi traduciamo anche convertitevi perché il regno di Dio Dio è vicino capiamo che significa l'espressione è vicino antimo è lontano Ernesto è vicino a me il regno di Dio cioè che è inaccessibile perché adesso non è bene vi ricordate Gesù nelle beatitudini qualche domenica fa come dice il testo salì sulla montagna vi ricordate quando Gesù sale sulla montagna sale sulla montagna e per la montagna cosa indica un'avvicinanza più vicina al cielo quindi salire sulla montagna significa che io mi avvicino un poco di più a Dio e avremo bisogno spesso anche di salire un poco sulla montagna perché salire significa cambiare anche un po' il modo di guardare cambia l'ottica quando tu stai più sopra salire significa che tu abbandoni quello che sta giù noi ce lo siamo dimenticati che la nostra vocazione è anche quella di salire è vero abbiamo la gravitazione che ci porta giù però abbiamo la grazia che ci porta su allora nel momento in cui Giovanni dice questo e adesso vedremo che Gesù dopo che Giovanni sarà arrestato sapete come inizierà la sua missione Gesù proprio con questa frase convertitevi perché il regno dei cieli è vicino anzi poi direi il regno dei cieli è qui è lui allora davanti a questa realtà dove l'ebreo per l'ebreo Matteo sta scrivendo agli ebrei non lo dimentichiamo questo dove Dio è il totalmente altro inaccessibile arriva Giovanni e dice che invece non è vero che è inaccessibile anzi ma è vicino si fa prossimo allora se si sta facendo prossimo io che cosa devo fare? lo devo accogliere e per accoglierlo devo convertirmi che convertirmi non significa prima di tutto come pensiamo noi non devo fare più i peccati non è questa la conversione la conversione è cambiare un modo di pensare davanti a certe realtà davanti alle quali noi siamo così abituati con la nostra mente rigida e chiusa che così è e non invece di Giovanni Battista bisogna cambiare questa mentalità anche davanti al fatto che Dio non è vero che è inaccessibile e tutto lo scopo di Gesù e il Vangelo è proprio questo dirci che Dio è Abba ricordiamoci la misericordia dell'anno scorso nel Vangelo di Giovanni che noi abbiamo ascoltato il giorno di Natale nel prologo al primo capitolo Giovanni stranamente lo sapete non parla della nascita di Gesù però ci fa fare una riflessione su qualcosa che nell'eternità che sta lì nel cuore di Dio a un certo punto dice e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi sapete il testo originale come dice il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi dice così il testo originale pose la sua tenda in mezzo a noi perché Giovanni parla di tenda perché i pastori nel deserto dove abitavano sotto le tende quindi Giovanni dice come il pastore mette la sua tenda lì nel pianta la tenda nel deserto perché fa attenzione alle sue pecore allora Dio nel verbo che si incarna che ha fatto ha messo la sua tenda vicino alle nostre tende se questo è vero io Dio dove devo andare a cercarlo in cielo no dove nella tenda che sta a fianco alla mia tenda per usare un'espressione che può sembrare un poco banale Dio incarnandosi abita di fronte casa mia è diventato mio dirimpetario come sta la signora che abita di fronte proprio alla porta mia io abito in un palazzo quindi condominio quindi sono il pianerotto stanno due abitazioni per piano io apro la porta c'è la signora che abita di fronte a mia e quando esco a salute ci troviamo ci salutiamo tutto a posto si chiama Lucia signora capite quando io apro la porta di casa mia trovo di fronte a casa mia Dio che abita non sono delle immagini sdolcinate così però il rischio sapete qual è che noi questo rapporto con Dio l'abbiamo perso ecco perché continuiamo a pensare che lui stia sulle stelle o nelle stelle beato lui che stia in paradiso il guaio è mio che sto qui su questa terra in questa valle di lacrime ma perché io continuo a immaginarmelo così quello che lui è venuto a dirci è proprio di questo rapporto che deve cambiare perché se non cambia il rapporto lui resta Dio per i fatti suoi e io resto per i fatti miei potrò maledirlo potrò bestemmiarlo perché sarà sempre tutto quello che è e lo sappiamo è proprio per questo l'altro giorno stavo facendo una catechesi con un gruppo dove si parlava di certe scelte che fa Dio no allora la signora disse no io dissi non so perché Dio fa queste scelte poi in paradiso io lo chiederemo e la signora disse in paradiso il signore dovrà darci molte spiegazioni ma il signore sicuramente ce ne darà le spiegazioni in paradiso però la sorpresa più grande sarà quando andremo lì che noi forse non avremo capito niente di spiegazioni che lui già ci ha dato su questa terra allora Giovanni e poi Gesù ancora di più sta chiedendo che cosa cambia il tuo modo di guardare la realtà che sta sotto i tuoi occhi e se ricordate il di più dove c'è stato ricordate le beatitudini beati poveri beati afflitti beati perseguitati che cosa sta dicendo lì che davanti a una realtà tu hai mille modi per poter vedere quella realtà ora Gesù dice io ti sto dando anche un altro modo di poter guardare questa realtà dove la realtà allora non è più disperazione se tu la cogli di questa presenza il resto tra chi crede e chi non crede è proprio questa la speranza chi non crede è disperato davanti a certe situazioni chi crede invece sa che c'è una speranza che non è la speranza di chi speranza vive di speranza muore la nostra speranza è che quello che noi speriamo già sia realizzato in lui si dovrà solo realizzare in noi e quindi il tempo che si compia nella preghiera diciamo si compia la beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo allora davanti a questa realtà del regno di Cenevicino convertitevi convertiamoci allora qui poi capite che entra in gioco ognuno di noi io sono chiamato a convertirmi come accogliere questa presenza di Dio come scorgere Dio presente sapete c'è una piccolissima storia la permettetemi si racconta che c'era un monastero di monaci in questo monastero di monaci non andavano più d'accordo i monaci tra di loro pensate a provare no quando in famiglia qualche volta non si va d'accordo è un piccolo inferno guarda a pensare in un monastero dove dovrebbe regnare un poco di più di pace e serenità lì non si va d'accordo e quindi è andato un inferno con il monastero un monaco contro l'altro non rispettavano più l'abbate non c'era più la regola che si rispettava l'abbate non sapeva più come fare in questo monastero siccome c'era la voce che in un altro monastero c'era lì l'abbate che aveva fama di essere un abbate molto santo lo mandò a chiamare gli spadri abbate io qui ho bisogno del vostro aiuto non so come fare qua i miei monaci stanno uno contro l'altro l'abbate ci pensa un poco chiama i monaci uno alla volta e parla con loro e ognuno dice fratello io ho saputo da Gesù che lui ha scelto di venire nel vostro monastero a farvi una visita però si nasconderà in uno di voi ma non mi ha detto chi sarà allora il monaco inizia a pensare ma vuoi vedere che Gesù si è nascosto in quello vuoi vedere che si è nascosto in quell'altro da quell'incontro con l'abbate iniziarono tutti a guardarsi diversamente perché con la preoccupazione che Gesù potesse essersi nascosto in uno di quelli iniziarono a trattarsi tutti quanti bene di fare il paradiso in quel monastero allora capite da come io guardo da come io comprendo da come io mi rapporto alle cose come ci guardiamo tra di noi ah beh don Ernest vabbè capite nemmeno che ho detto già questo ho detto tutto siamo venuti qui facendo la strada durante la strada che cosa vedremo è bellissimo Gesù che cammina guardate noi la diamo per scondare ma è un'immagine bellissima Gesù che cammina cammina e vede vede e chiama noi siamo venuti per la strada che cosa abbiamo visto già ve lo dico subito quando monnezza per queste nostre strade è solo questo sappiamo vedere un albero non lo sappiamo più vedere e dicendo albero non intendo ah un albero intendo la creazione perché l'albero è la creazione una fontana l'acqua e qui vi ricordate San Francesco il cantico delle creature laudato sì mi signore arriverà a dire anche per sorella morte corporale ah non lo so non conosco la realtà però voglio dire vedete eppure questa realtà è quella che da sempre sta sotto i nostri occhi e che il signore ha messo sotto i nostri occhi vi ricordate nella Genesi in questi giorni stiamo ascoltando e Dio vide ed era cosa buona e Dio vide siamo quasi un ritornello era cosa buona era cosa buona vedete non esiste una realtà sacra e una profana tutta la realtà è sacra esiste tutta più una realtà profanata che noi abbiamo profanato ma tutto è sacro siamo noi che lo profaniamo voi quando guardando diventa appetibile e me ne devo usare la sto profanando invece siamo i custodi della creazione e Giovanni Battista questo fa convertitevi quindi cambiate questo modo di pensare di rapportarvi la realtà e poi verranno di conseguenza anche le azioni e così anche per noi inizieremo la quaresima tra poco sappiamo la quaresima è il tempo di conversione ma anche qui non devo vedere i peccati come devo cambiare la mentalità il Papa ci ha dato un bel messaggio per la quaresima lo vedremo forse durante il ritiro accogliere l'altro l'altro come dono ci presenta Lazzaro il ricco e bluone il povero Lazzaro l'altro come un dono allora converto cambio ma perché? perché il Regno dei Cieli è vicino quindi davanti a questa data di questo dono io mi adeguo e proprio lo sapete i doni possono essere accettati ma anche rifiutati posso anche fingere di aver colto un dono e il dono il dono mi fa un dono faccio la bella faccia davanti a lui e gli gli grazie poi arriva a casa e metto in due cassetti capite? e il dono non porterà questo frutto ma non in lui che me la dà in me ora Giovanni questo li fa in questa conversione e vi ricordate l'abbiamo visto nel deserto le annunce questo e ripeto le folle accorrevano da lui però ricordiamo anche una cosa che Giovanni in questo annuncio di verità che lui farà perché poi lo sappiamo noi quello che prepara la strada di Gesù Cristo nell'annuncio della verità sarà messo in prigione perché Erode a causa di Erodiade che lui aveva sposato la moglie del fratello e lo farà mettere in prigione perché quello che diceva stranamente dice il testo Erode lo ascoltava volentieri anche se ne l'ascoltava però Erode restava turbato poi viene fatto imprigionare però Giovanni continua a dire la verità quindi vedete non basta semplicemente ascoltarla perché io posso anche ascoltarla però se poi non do seguito a quella verità che ho ascoltato non produce il suo frutto infatti Erode lo mette in prigione poi sappiamo sarà decapitato e va bene a causa di Erodiade di Salome che farà il ballo e quindi Erode resti invaghi dopo il ballo della figliastra quindi Giovanni è imprigionato dice il testo poi c'è in mezzo il capitolo quarto quello delle tentazioni però non lo vedremo perché lo vedremo quando inizia la quaresima perché ricordate l'armadomenica di quaresima ascolteremo proprio il Vangelo delle tentazioni quindi l'incontro che faremo dopo la quaresima dopo la domenica riprenderemo il capitolo quarto con le tentazioni dopo che Giovanni viene arrestato dice il testo quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato si ritirò nella Galilea lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarno sulla riva del mare nel territorio di Zabon e di Neftali perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia attenzione perché vi ricordate spesse volte Matteo ci dà delle coordinate anche geografiche ora dice il testo dopo che Giovanni dopo che Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato provate a pensare no Giovanni aveva i suoi discepoli Giovanni era questo profeta viene arrestato negli altri che cosa subentra nel loro cuore chissà quanta tristezza quanta delusione perché se Giovanni era questo profeta così grande che tutti andavano da lui meni che viene arrestato quindi Giovanni viene fatto fuori e tutti quelli che stavano lì vicino a Giovanni restano male quindi c'è una delusione vi ricordate quando Gesù muore e gli apostoli cosa fanno? si chiedono dentro restano delusi anzi addirittura i due di Emos se ne vanno Pietro e i suoi compagni altri sei che lo seguono vanno a pescare proprio immaginate che loro dicono questo quel Gesù è morto noi pensavamo speravamo però intanto sono passate i giorni non sappiamo più niente addirittura delle donne ci hanno detto che gli ho risorto vagheggiavano quindi restano delusi la speranza che è finita finalmente Giovanni era questo liberatore c'è stato questa vent'anni di novità con Giovanni messi in prigione le nostre attese sono finite e vedete quando tutto sembra che sia finito arriva la novità arriva quello che tu fosse non pensavi appena Gesù seppe Gesù entra in scena ed entra in scena in un contesto geografico particolarissimo perché dice si ritirò nella Galilea ora se avete un poco presente Israele un poco la terra santa Gerusalemme si trova al centro un poco poco più sopra a Gerusalemme c'è Nazareth più sopra c'è la Galilea perché Nazareth si trova in Giudea quindi stiamo a sud la Galilea è sopra al nord Zabolo e Nef tali si trovano proprio al confine della terra santa Papa Francesco per usare un'espressione di oggi direbbe che sarebbe la periferia della terra santa e noi lo sappiamo quando adesso anche oggi noi parliamo di periferia parliamo di quelle zone dove un poco sono più arretrate dove c'è un poco più di delinquenza dove non c'è il controllo e sono un poco più abbandonate dice il testo che Gesù lascia Nazareth e inizia il suo ministero il suo servizio la sua attività da lì non da Gerusalemme che è il centro ancora il modo diverso di pensare e di agire perché se tu vuoi agire vuoi essere subito considerato vuoi essere subito riconosciuto ma parti da Gerusalemme dove c'è la classe dirigente dove ci sono i professionisti dove ci sono quelli che contano ma che cosa speri se tu inizi dalla periferia da Zabulon e Neftali perché Zabulon e Neftali perché Matteo qui cita Isaia dice il popolo di Zabulon e Neftali che vivevano nelle tenebre hanno visto una grande luce ora se andiamo a leggere Isaia veniamo a scoprire a vedere che queste popolazioni Zabulon e Neftali hanno vissuto una schiavitù da parte della Siria in pratica la Siria aveva dominato Zabulon e Neftali sorgerà un nuovo re Ezechia che libererà Zabulon e Neftali la nascita di questo nuovo re sarà visto come una luce per quella gente e quindi il nuovo re sarà luce per loro perché li libererà quindi se la schiavitù è buio la liberazione è luce allora Matteo che cosa fa? applica ciò che è successo tanti anni fa lo applica Gesù dicendo quella gente che vive alla periferia ed è marginata e non è considerata hanno visto una grande luce perché Gesù Cristo ha iniziato il suo Vangelo convertito perché il regno dei cieli è vicino con quella gente che tutti quanti noi dice Matteo avremo escluso ora siccome noi stiamo leggendo non un fatterello che riguarda Gesù ma stiamo leggendo qualcosa che riguarda anche noi qui noi ci siamo provocati per dire quali sono le nostre scelte noi su che cosa puntiamo da dove partiamo ci sentiamo di giocare il tutto e per tutto partendo da chi potrebbe non considerarci non seguirci perderemo solo tempo o preferiamo partire da quel gruppetto che bene o male sappiamo che poi alla fine ci segue perché come Chiesa noi questo rischio lo corriamo come gruppi ecclesiali corriamo questo rischio ma noi stiamo così bene insieme noi così ci capiamo tra di noi pure se facciamo un discorso particolare di arte e teologia ci capiamo va bene ma signori di arte e teologia non l'ha fatta la facciamo noi purtroppo quando non vogliamo farci capire purtroppo nel tempo siamo diventati troppo autoreferenziali il centro ma Francesco ci sta spronando in questo la periferia tu vuoi mettere io faccio il parroco della parrocchia centrale del paese capite mamma mia quello sì che vale come parroco perché la parrocchia centrale mi chiamate nella cappellina che sta in mezzo alla campagna che l'ha punito chissà che cosa ha fatto oppure perché è poco semplice così perciò la manda in mezzo alla campagna così purtroppo così valutiamo e non mi dite che non è così anche ai lavoro pensate alla professione con tutti rispetto ma tu vuoi mettere uno che è laureato in legge un avvocato un giudice rispetto a quello che fu spazzino chiediamoci Gesù chi avrebbe scelto ma non perché avrebbe rifiutato il laureato l'avvocato Gesù non rifiuta nessuno perché Gesù anche all'avvocato si rivolge lo dice allo spazzino ma anche all'avvocato dice convetti per il cregno dei cieli vicini come lo dice allo spazzino non è che lo spazzino non abbia bisogno di conversione e quindi Gesù inizia da lì da Zabron e Nefet la Galilea al confine perché niente presente per l'ebreo il confine significava rapportarsi con i pagani e i pagani non partecipano dell'elezione non solo del popolo eletto il popolo eletto è Israele nel Vangelo di oggi non so chi di voi ha partecipato c'è una scena bellissima c'è una donna sirofenicia quindi non appartenente al popolo eletto che si avvicina a Gesù chiede la guarigione per sua figlia e Gesù da una risposta terribile dice non è bene prendere il pane dalla tavola e dalle cagnolini Gesù che apostrofo questa donna come una cagnolina dice il pane di uno sassi e la donna rispose signore è vera ragione però anche i cani si accontentano delle briciole che cadono dalla tavola dice il testo che Gesù resta meravigliato dice donna grande la tua fede sia fatto secondo quello che tu credi tua figlia è guarita è Gesù che si lascia mettere con le spalle al muro da questa donna ma la nostra fede dove sta? abbiamo il coraggio di riportarci così a Gesù io l'ho visto se vi ricordate noi come siamo delicati davanti a Gesù siamo tutti quanti persone educatissime Gesù mettiamo le mani giunte Gesù ti voglio bene così così noi dovremmo spattere un po' più i pugni davanti a Gesù quando le cose vediamo che vanno secondo un certo verso lo dice Gesù nel Vangelo no chi di voi se un amico a mezzanotte non va dall'altro e va a bussare fuori la porta svegliati perché ho bisogno dei pani e se quell'amico non per l'insistenza poi troverà se non troverà per l'amicizia come ci stanchiamo presto noi qui i bambini ci insegnerebbero tantissimi i bambini lo sapete tutti quanti noi siamo stati bambini chi di voi genitori adesso lo sa lo fa un'altra esperienza quando il figlio vuole una cosa e si mette lì e oggi domani sbatti i piedi a terra fin quando poi non ottiene quello che gli vuole e noi riusciamo ad avere questo aggimento nel rumore di Gesù mettiamoci lì e lui l'ha detto con insistenza quasi a dire me ne va io te ne vai tu lui non se ne va purtroppo ce ne andiamo noi il Papa lo disse proprio al primo Angelus Dio mai si stanca di usare i misericordi siamo noi che ci stanchiamo di chiedere di invocarlo queste misericordi e quindi Gesù inizia da lì quindi capite iniziando da lì capite benissimo che cosa porta di nuovo come apri il cuore noi abbiamo bisogno di questa apertura del cuore il nostro cuore sta facendo troppo piccolo e se si fa piccolo si atrofizza aprire il cuore alla speranza Papa Francesco ce l'ha detto ribadito non lasciamoci rubare la speranza le cose non vanno bene d'accordo ma non lasciamoci rubare la speranza ripeto quando tutto sembra finito e zittito lì c'è qualcosa che sta iniziando però dobbiamo accorgercene c'è una bella frase non ricordo se Giremia o Isaia dice nel deserto già sta per germogliare qualcosa non ve ne accorgete contando onestà mi dice signore no purtroppo non ce ne accorgiamo è perché noi sappiamo che nel deserto purtroppo non succederà niente e invece lì sta nascendo già qualcosa quindi ripeto questa scelta della periferia perché dove c'è un uomo lì c'è la possibilità che il regno possa instaurarsi dove tu passi fiorisce il deserto e quindi mettiamoci dietro a lui per vedere questo frire il deserto quindi Gesù da lì inizia a dire convertitevi perché il regno dei cieli è vicino poi continua mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello che gettavano le reti in mare erano infatti pescatori e disse loro venite dietro a me vi farò pescatori di uomini vi dicevano Gesù che cammina è una scena bellissima Gesù che cammina perché noi vedete siamo abituati a vedere Gesù nel tabernacolo Gesù fermo Gesù statico no invece Gesù è dinamico ed è bello perché in questa sua dinamicità lui coinvolge tutti quelli che lo seguono noi molte volte non lo so penso un po' sapete un po' con l'attività del nostro vescovo il nostro vescovo non sta mai fermo è un appuntamento di qua e chi gli poi gli deve stare appresso ha da fare il suo stesso ritmo e non riusciamo a stargli dietro immaginate si è dietro a Gesù però i suoi discepoli li invita a stargli dietro su questo le uniche volte dove Gesù si siede sapete quando in modo particolare quando sta a tavola a cena o a pranzo il dono più grande dell'Equarestia ce l'ha fatto seduto a cena però poi sempre in piedi da una parte all'altra chi lo vuole seguire deve seguire in questo spostamento non puoi fermare Gesù non puoi bloccarlo anzi vi ricordate quando il giorno della resurrezione Maria di Magdala si buttò ai suoi piedi Gesù dice non mi trattenere perché non sono ancora assalito al padre mio la nostra tendenzione è proprio questa di fermarlo ma sapete perché lo vogliamo fermare perché fermandolo noi ci possiamo fermare bloccandolo noi finalmente ci fermiamo è il rischio che ci sediamo diventiamo sedentari come siamo diventati Papa Francesco ha detto spesso che purtroppo noi come cristiani siamo diventati cristiani da salotto lo sapete nel salotto che si fa si prende il caffè o si prende il tè con i biscotti noi come cristiani siamo seduti ci prendiamo il bicchino di tè o il caffè mangiamo i biscottini e poi ce ne andiamo quindi Gesù che cammina e se vi ricordate nella Bibbia c'è un'altra persona che cammina ebbè tanti camminano ma c'è una scena bellissima noi l'abbiamo vista in Genesi 3 se vi ricordate è Dio che passeggia nel giardino Dio che passeggia e come vi dicevo quando tu cammini le persone in mezzo alla strada le incontri quando stai camminando Dio che si è fatto di fronte dell'impettaio è il loro Dio che incammini in mezzo alla strada è il Dio che cammina e camminare significa è la vita perché in mezzo alla strada passa la vita ci rendiamo conto e provate a pensare o no le persone che camminano provate a pensare le storie di quelle persone come per noi i problemi le gioie le preoccupazioni e di qualcuno che noi conosciamo io dove abito Ernesto lo sa no c'è la mensa della Caritas d'estate faccio da balcone così e vedo quelli che entrano lì alla mensa quante volte mi è capito di vedere persone che conoscevo che stavano bene adesso vanno a mangiare la Caritas e vedete è cambiato anche il loro modo di camminare la persona gioiosa dritta no bella cammina passo balanzoso così tranquillo domina il mondo la persona afflitta così accasciata scoraggiata con la testa bassa e poi provate a pensare no vediamo le persone passare le loro storie e Gesù davanti a queste persone che passano in quelle storie le incontra le incontra Gesù che cammina e cammina lungo il mare di Galilea perché questi sono pescatori e poi camminerà e sarà Matteo su del banco dell'imposte e chiamerà anche Matteo al banco dell'imposte e Natanaele che sta sotto il fico ed è quello che studiava e chiamerà anche Natanaele e allora ricordate quella lista dei nomi che continua quella lista dei nomi e ha chiamato anche ciascuno di noi perché tutti il Signore gli ama e tutti possiamo rispondere possiamo anche non rispondere la chiamata non è solo per quelli che si fanno preti o si fanno suore la chiamata è la condivisione della vita che Gesù dona questa è la chiamata ci dona questa vita nuova ci dona la possibilità di cogliere una vita bella e guardate se queste cose non le diciamo noi che crediamo che le deve dire chi è che deve riaprirci e rianimarci alla speranza se non lo facciamo noi che crediamo un cristiano che non crede nella speranza un cristiano che vive disperato è un cristiano che non ha senso voi provate a pensare già quando ne siamo qui adesso questa sera qui ma quelli che ancora di più ne siamo durante le messe ecco il seme che viene messo che deve purificare e questo ecco se io poi non vivo del Vangelo se io non vivo di quello che celebro se io non vivo di quello che credo allora c'è una dissociazione dentro di me penso una cosa faccio una cosa ma poi ne vivo tutt'altra e allora non c'è l'abbiamo detto la dimensione spirituale e poi la dimensione umana o sociale non c'è Maurizio che è religioso che fa la preghiera in chiesa che vive in questo momento e annuncia il Vangelo però poi fuori il Vangelo poi quando arriva l'occasione non la vive è perché se c'è questa situazione dove anche io vivo quelle difficoltà di buio e devo capire che Gesù è arrivato con la sua luce l'abbiamo celebrato quando l'irrompere della luce la notte di Natale il Natale lo ce l'abbiamo a mezzanotte quando è il buio pieno e lì vediamo che cosa l'irrompere della luce dovrete vedremo la luce la notte di Pasqua addirittura come inizia la celebrazione il cielo pasquale che entra in chiesa che è tutta buia fate attenzione a questi segni l'abbiamo detto durante la liturgia i segni sono importanti perché i segni ci dicono la realtà che non potrebbe arrivare a noi diversamente se non attraverso il segno per la condizione umana che portiamo di essere esseri umani incarnati quindi allora se io accolgo quella luce non la accolgo solo come rito accendo la candela va bene ho fatto il rito allora poi mi devo chiedere lo devo chiedere qual è il mio buio e come devo lasciarmi illuminare poi da Cristo allora Gesù che cammina allora me lo devo chiedere Gesù oggi è camminato l'ho incontrato lungo la strada stasera devo ripercorrere idealmente la mia giornata per vedere se sulla strada che io oggi ho percorso c'è stato questo momento o se come quei monaci mi sono chiuso all'altro all'incontro con lui e non ho capito che stava anche in quella situazione che per me siccome era di periferia non l'ho proprio considerato quindi Gesù ripeto che cammina e vide due fratelli ve lo dicevo prima il fatto di vedere quanto è bello questa realtà il vedere lo dicevo prima vedere dobbiamo ritornare a vedere non fermiamoci alla superficie delle cose fateci caso quando i fidanzati appena si conoscono poi a un certo punto lei o lui dice ma veramente poi mi vuoi bene sì e dimmi di che colore tengo gli occhi e si gira per vedere se l'altro l'ha visto veramente o no chi di voi è sposato poi fate a pensare a quando vi siete innamorati no allora sarebbe bello di dire ti ricordi il maglione che portavo oppure ricordate la prima canzone che abbiamo ascoltato quando siamo fidanzati questo è il vedere e se io vedo così io vedo colgo la creazione come dicevo se vedo così ma se non vedo mi ferma la superficie allora che cosa vedrò mi sono fatto più vecchio tengo la ruga in più i capelli sono più bianchi si è ingrassato un pochino in più non vedo bene perché non vedo in profondità perché queste cose ce le siamo lasciate sfuggire non lo so sinceramente non lo so parliamo no fateci caso questa società che è diventata una società che va di fretta la società poi noi non siamo perché non siamo noi questa società chi è che ha creato questa fretta sempre gli altri ma sono pure io pensate adesso quando finiremo l'incontro la prima cosa che farò il telefonino prenderò là fuori per farmi vedere chi mi ha chiamato perché a me non vivo se non ci vedo qualche messaggio ho fatto un esperimento la settimana scorsa non so se avete visto in televisione cioè l'hanno detto in televisione la notizia in una classe a un gruppo di ragazzi hanno chiesto una settimana senza cellulare dopo due giorni solo due sono arrivati alla fine due sono arrivati alla fine dopo due giorni subito tipo come drogati sti ragazzi del cellulare non lo dico dicendo i ragazzi per disprezzo perché mi metto anche io in mezzo ripeto proviamo anche noi a farlo proviamo a pensarci solo per un attimo quindi vide due fratelli Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello che gettavano le reti in mare erano infatti i pescatori è bello questo fatto che ci sia un nome non avete visto la chiamata di Gesù non è mai una chiamata generica o è a chi vuole venire viene no ma il fatto di quel nome come dicevo prima il nome è tutta una storia allora pensate no Simon Pietro di là poi nel Vangelo di Marco a capitolo 3 no no scusatemi Gesù passò tutta una notte in preghiera e tra i discepoli scelse gli apostoli i dodici tra i discepoli quindi c'erano c'erano i discepoli e poi tra i discepoli scegli gli apostoli dopo una notte è trascorso in preghiera e nel testo poi continua dando i nomi dei dodici che noi conosciamo e alla fine finisce così l'elenco sempre tutti gli elenchi degli apostoli in tutti i Vangeli finisce sempre così è Giude Scariota che fu poi il traditore dopo una notte è trascorso in preghiera e siccome lui vede Gesù vede nei cuori non vede la superficie l'aveva visto già ha visto Simon Pietro Pietro non mi rinegherai tre volte non cantare il gallo che tu mi rinegherai tre volte quindi se noi pensiamo di essere chiamati dal Signore di essere santi e perfetti non saremo mai chiamati Simone e Andrea hanno la loro storia noi abbiamo la nostra storia il Signore vede la nostra storia non chiede di cambiare la nostra storia per chiamarci ma chiede che in questa nostra storia noi lo accogliamo guardate c'è una frase particolare un'espressione particolare sulla tempesta sedata c'è il mare in tempesta gli apostoli stanno lì sul mare Gesù non si trova nella barca perché Gesù stesso invita gli apostoli a prendere la barca poi c'è questa tempesta e Gesù cammina tranquillamente a un certo punto dice il testo e presero Gesù così com'era nella loro barca Gesù ci chiede di prenderlo così com'è ma di prenderlo anche così come noi siamo poi accogliendolo allora io lì sì che poi c'è la conversione però l'accento è sull'accoglienza non sul capite? quindi c'è la storia di Andrea e Gesù ha quella storia di Andrea dice seguimi con la tua storia quando vi ricordate la resurrezione Pietro dirà vicino a Gesù signore allontanati da me che sono l'abbiamo visto con la scena di conversione l'anno scorso allontanati da me che sono un peccatore Gesù non dice vicino a Pietro no Pietro non è vero che tu sei peccatore però dice per me non è un ostacolo il tuo peccato ma sei disposto ad andare oltre qui questo sta chiedendo perché a momento in cui dice vi farò pescatori di uomini che significa loro erano pescatori di pesci perché noi questo sappiamo che se pescono i pesci non si vanno a pescare gli uomini quindi sei disposto veramente a capire di una realtà che tu facevi di essere pescatore però a capire che adesso questa realtà ha un'altra finalità quindi accogliere questa realtà che ti porta a finalità diverse rispetto a quelle che tu pensavi e che fino adesso la sono i portati avanti quindi c'è questa chiamata è sempre una chiamata precisa non generica dice non mi ricordo parisaia il Signore chiama le stelle a una a una per nome e poi dice il Signore porta scritto il tuo nome sul palmo della sua mano non perdiamo la bellezza di queste immagini Dio sulla sua mano porta scritto il nostro nome e siccome Dio opera si opera con le mani Dio quando opera vede il nostro nome vide i due fratelli li chiamò mentre stavano gettavano le reti quindi vedete stavano facendo il loro lavoro stavano lavorando non stavano pregando vuol dire che la chiamata può avvenire in ogni momento non c'è un momento particolare per essere chiamati San Paolo vi ricordate quando viene chiamato quando stava andando perseguitare i cristiani a Damasco stava per andare per ucciderli e lì il Signore lo chiama quindi chiama mentre stavano lavorando chiama mentre noi stiamo facendo quello che stiamo facendo ordinariamente chi sta a casa sta facendo i servizi chi sta a scuola chi sta studiando così il Signore passa e ci chiama non ci chiama quando stiamo in un contesto di preghiera dove casomai pensiamo di stiamo più attenti no perché se io sono attento a quello che sto facendo lì il Signore mi sta parlando ecco la presenza la consapevolezza della presenza a me stesso che è l'opposto della distrazione del non vedere come diciamo prima quindi passava allora vedete il Signore che non si lascia circoscrivere da situazioni particolari non si lascia bloccare da cosa o mai qualcosa di particolare da parte nostra ma chiama è un invito che Lui ci fa è una scelta il Signore sceglie attenzione noi molto volte pensiamo no io ho scelto il Signore no un momento tu non hai scelto niente tu hai risposto a una scelta che ti è stata fatta il Signore Lui ha scelto noi noi rispondiamo alla scelta corrispondiamo possiamo anche non corrispondere ma la nostra è una corrispondenza a una scelta che ci è stata fatta va bene lo stesso per loro e vedete allora c'è questo sguardo perché li vede però abbiamo detto come abbiamo detto in incontri lo sguardo non basta allo sguardo c'è anche una parola sguardo e parola insieme perché guarda e poi venite dietro a me vi farò pescatori di uomini è questa sequela allora venite dietro a me è l'invito dietro a me con me il chiamato chi è? non è uno che è imparato a chiamare o non è che uno che è chiamato a studiare dei testi a studiare il catechismo a studiare la dottrina è chiamato è uno scusate che è chiamato a stare con Gesù a stare con una persona a cogliere la persona scoprire una persona imparare una persona vi ricordate nell'evangelio di Giovanni si legge che i due discepoli invitati da Giovanni Battista seguono Gesù Gesù si gira che cercate? loro dicono maestro dove abiti? Gesù risponde venite e vedrete noi quando ci mettiamo in viaggio noi chiediamo delle garanzie se il pullman è un pullman buono se dove andiamo il posto è tranquillo è sicuro se si mangia bene dove andremo quindi vogliamo delle garanzie Gesù queste garanzie non ce le dà venite dietro a me punto cioè qui si tratta vedete di credere di fidarti di una parola in che modo poi si realizzerà questa sequela non lo sappiamo ma perché pensate che la Madonna quando disse sì all'angelo sapeva dove sarebbe arrivata la Madonna sapeva che avrebbe partito in una stalla la Madonna quando disse sì già all'angelo le disse che poi doveva scappare in Egitto oppure che sarebbe arrivata sotto la cruce Maria non sapeva niente di questo però si è fidata di quella parola e quella parola Maria ha detto il sì a quella parola ogni giorno quindi è stato un momento bello e anche quando è scappato in Egitto anche lei ha detto sì seguirlo non è che ci do una garanzia finalmente le cose andranno bene la strada è in discesa tutto a posto e lascia passare non è questa la sequela la garanzia della sequela è che stiamo con lui perché lui è con noi perché lui è passando nella nostra vita ci ha scelti ci ha chiamati ci ha guardati questa è la garanzia che noi abbiamo che è con noi sarà chiamata Emanuele che significa Dio con noi io sono con voi tutti i giorni della vostra vita non abbiamo altre certezze non abbiamo altre chi cerca altre certezze deve cambiare religione non è questa la nostra religione la nostra religione ci ha solo questa certezza di una presenza anzi tra l'altro sapete no il cristianesimo vero e proprio non è una religione perché è una persona Gesù Cristo e in questa chiamata in questa sequela in questo sguardo in questa parola vedete c'è un invito e c'è una promessa vi farò pescatori di uomini è una promessa e fateci caso però l'invito è al presente venite dietro a me ora vi farò pescatori di uomini vuol dire qualcosa che si impara e la imparerete Pietro e Andrea la impareremo stando con lui non stando fuori da lui perché molte volte noi pretendiamo vivere la nostra vita stando lontani dal Signore ecco perché poi non ci troviamo più ecco perché poi entrano le crisi ecco perché poi il Signore non mi capisce oppure il Signore non c'è perché io non vi dimentico poi che sono stato chiamato a seguirlo mi dimentico di vivere la sequela perché noi pensiamo la sequela che cos'è? il catechismo che abbiamo fatto la messa domenicale l'incontro che facciamo questa è la sequela però poi ci dimentichiamo che la sequela è quando noi usciamo da qua dentro usciremo andiamo a casa quella è la sequela ecco come adesso lo seguo con questa certezza questa promessa pescatore di uomini diventerò imparando da lui allora Natale noi abbiamo visto che cosa? il mistero dell'incarnazione di questa realtà che ha sconvolto completamente la vita di Dio sconvolgendo la nostra in che modo poi si è realizzato ed ecco domenica in domenica allora non è più solo ciò che riguarda Gesù Cristo è il suo Natale ma il nostro Natale poi di domenica in domenica ascoltando la parola per incarnarla e diventa il nostro Natale celebrando poi la Pasqua allora quindi di questa realtà di una promessa e noi su questa promessa però attenzione la sequela ha un prezzo seguire Gesù a un prezzo qual è il prezzo di Simone e Andrea il prezzo avete sentito lasciarono le reti e lo seguirono per un pescatore le reti sono tutto per un pescatore le reti sono ciò che gli garantisce il fabbisogno quotidiano il pescatore non pesca con le mani pesca con le reti quindi abbandonato le reti fa capire il testo che non pescheranno più questo è il prezzo su quale certezza sulla sua parola dirà altrove nel Vangelo di Luca dopo una notte passata senza aver preso nulla Gesù dirà a Pietro getta le reti e Pietro dirà signore ma tutta la notte abbiamo pescato e non abbiamo preso nulla e Gesù dirà getta le reti e il testo dice sulla tua parola getterò le reti in mare qui ancora su questa parola secondo la visione che cita Matteo Pietro e Simone lasciano le reti e seguono Gesù su quella parola il prezzo che pagano che prezzo siamo disposti a pagare noi quante certezze abbiamo nella nostra vita quante certezze è che con fatica ci siamo costruiti abbiamo il coraggio di lasciarci mettere tutti in discussione da quello sguardo di Gesù abbiamo il coraggio la capacità di poter pensare che domani il Signore potrebbe chiamarci a seguirlo chiedendoci qualcosa che noi non ci immaginavamo perché quello che sapevamo fare lo sappiamo fare pescatori pescatori di uomini non lo so ma il coraggio però di lasciare di dire vengo ok insegnami attenzione perché la cosa bella è finisco la scelta che facciamo di Cristo la scelta che Cristo fa chiamandoci non è per inchiuderci con Lui perché molti volte noi pensiamo questo io e Gesù e vivo questo momento così alto di spiritualità io e Lui l'intimità con Lui no attenzione perché la chiamata che fa Cristo per seguirlo non è per restare con Lui ma per restare con Lui e insieme a Lui andare incontro agli altri se Cristo è in cammino e va verso gli uomini quelli che Lui chiama li chiama perché stanno con Lui ma per andare insieme con Lui incontro agli altri quindi fondamentalmente la nostra chiamata come credenti ma come Chiesa è questa la Chiesa è il popolo che si raduna attorno a Cristo ma non semplicemente per celebrare Cristo ma per andare insieme a Cristo incontro agli altri vedete è facile vivere un'autoreferenzialità di momento di incontro con Gesù Cristo bene vado in Chiesa faccio l'adorazione che è bello quante cose ho sperimentato nell'animo e me le torno a casa mia non ci viene che sto questo vado in Chiesa vivo l'adorazione sperimento tante cose nell'anima mia ma quelle cose che sperimento è per portarle agli uomini non per tenermole per me perché come tutte le cose fateci caso se le teniamo per noi marciscono poi da pensare alla pasta che teniamo nell'armadietto a casa della dispensa se non la usiamo marcisce se un pantalone non lo mettiamo però teniamo nell'armadio e lo teniamo conservato per non usarlo però è nuovo aspettiamo sempre l'occasione passa di moto poi non lo mettiamo più marcisce quindi quello che siamo chiamati a vivere nell'intimità con Cristo per andare insieme a Lui imparando da Lui per andare così verso gli uomini diventare poi i famosissimi pescatori di uomini lasciare tutto non è semplicemente un lasciare materiale perché io potrei anche lasciare qualcosa di materiale il problema è il cuore dove sta il lasciare tutto è quella capacità è quella disponibilità di mettere tutto a servizio tuo Signore questo è lasciare tutto quindi anche in famiglia ecco di mettere tutto a servizio tuo anche la famiglia perché l'accento non lo poniamo su lasciare tutto poniamo l'accento sulla sequela l'accento sulla sequela è molto più bello perché altrimenti dice quello poi ha lasciato tutto è così un momento quello che l'accento su quello che troviamo non su quello che lasciamo Sabalo a un certo punto dice così della sua esperienza davanti alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù ho considerato tutto come una spazzatura poi vedremo che Pietro probabilmente non ha lasciato nulla perché quando Gesù chiederà a Pietro la barca Pietro quella barca da dove la prende quindi però l'ha messa a disposizione quando c'è la chiamata e tu hai detto no Pietro così Giuda così Gesù è stato sulla montagna a pregare prima di scegliere mi sono sempre chiesto e mi chiedo anche per me ma non come sacerdote ma come chiamato a seguirlo come cristiano come uomo e poi anche come sacerdote che cosa lui ha visto o ha potuto vedere ecco in Pietro tu hai usato un'espressione lui sa il cuore sapendo che poi avrebbe fatto quello che avrebbe fatto che cos'è che rapisce il cuore di Gesù per quest'uomo a dirgli seguito io non lo so perché dovrei stare nella mente nel cuore di Gesù però posso dire quello che mi piace immaginare lui vede nel nostro cuore tutto il bene possibile che c'è dentro di noi l'altro giorno Francesco ha detto così anche in quello di Giude si perché anche in quello di Giude in ogni uomo c'è il bene possibile e purtroppo se abbiamo la capacità di metterlo fuori questo perché molte volte certe situazioni noi pensiamo che certe situazioni non ci permettano di essere buoni quante volte diciamo no ma in quella situazione non posso essere buono però il bene c'è dentro di noi noi lo vedremo non lo so quanto ma lo vedremo cioè nella mia mente c'è di poterlo vedere insieme con voi Giuda Primo Mazzolari parla di Giuda a fratello mio Primo Mazzolari Giuda a un certo punto va a portare le monete indietro ho tradito un sangue innocente poi si va a impiccare va bene quindi però ecco ho tradito un sangue innocente quindi siccome se è vero ciò che leggiamo nella Genesi che Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e se è vero che con il sacramento del battesimo siamo stati inseriti nel mestrado unitario e se è vero che siamo figli adottivi in Cristo Gesù Papa Francesco ha detto che noi abbiamo il DNA di Dio quindi cosa vede il Signore quando ci chiama vede che siamo Suoi figli un padre non può che guardare il suo figlio con occhi di benevolenza non può che eleggere il suo figlio come il suo figlio più bello può essere pure un mostro figlio ma per il genitore quanto è bello mio figlio anche se non è bello e noi l'abbiamo visto se vi ricordate quando parliamo della misericordia l'amore viscerale di una madre che Dio è padre e madre proprio questo amore viscerale no, allora il profeta usa questa immagine è un'immagine che lui usa perché Dio non ha le mani lo sappiamo però lui usa questa immagine per dire che siccome gli siamo così importanti gli siamo così cari che lui sulle sue mani porta i nostri nomi quando Dio quando si fa ho un'azione le azioni noi le facciamo con le mani esempio io prendo il microfono prendo il libro e quindi ho sempre davanti a me le mie mani allora se i nostri nomi stanno sulle sue mani siccome lui opera sempre allora lui siccome agisce con le mani ogni volta che usa la mano vede anche i nostri nomi è un'immagine per dire che lui ci pensa sempre stiamo sempre pensati da Dio perché guardate per assurdo il momento in cui Dio non ci dovesse pensare noi finiremo cadremo nel nulla ricordate quando parliamo della paternità di Dio Dio è una paternità in relazione con noi e questa relazione non potrà mai venire in meno che altrimenti Dio si autodistruggerebbe per assurdo facciamo con Arcangelo e poi chiudiamo Arcangelo è proprio necessario Arcangelo come sempre ci vorrebbe una vita per rispondere a questa domanda che tu hai fatto tieni presente una cosa però tu dici che per gli apostoli poteva essere facile perché Gesù stava lì però a me non pare che sia stato facile per gli apostoli perché proprio lo stesso Pietro che abbiamo visto lasciò le reti e lo seguirono subito che bello per due volte ritorno a questa termina Pietro sarà quello che più tra virgolette ha dato filo da torcere a Gesù Gesù dovrà chiamarlo Satana a un certo punto il Signore non ti accadrà mai il Signore per te dara la vita non lo conosco quindi non è che è stato proprio così facile deve Pietro seguire e capire che l'insegnamento di Gesù è quindi andargli dietro però Pietro anche nello sbaglio nel fallimento comunque continuate andargli dietro come faccio a capire se nella vita quotidiana soprattutto io lo sto seguendo o piuttosto non sto seguendo il mio pensiero il mio sogno il mio desiderio allora non lo dimenticano noi abbiamo sempre un riferimento che è la parola di Dio che non è un testo come abbiamo detto ma è una persona viva è la parola è la parola di Dio quando noi diciamo parola di Dio diciamo Gesù Cristo questo deve essere chiaro parola di Dio uguale a Gesù Cristo quindi Gesù Cristo è la parola di Dio quindi io ho la parola alla quale faccio riferimento con la quale mi confronto perché se sul lavoro io mi confronto con il mio capo ma è l'ora di fare questo progetto faccio il progetto io lo porto e ci confrontiamo insieme nella mia vita il progetto che sto parlando avanti con chi lo devo confrontare con l'autore della vita con Gesù Cristo allora il discorso è un altro se effettivamente io posso dire di conoscere Gesù Cristo cioè che relazione poi intrattengo con lui perché il rischio nostro è questo vedi ci siamo fermati ci siamo limitati a vivere non una relazione con Gesù Cristo perciò ecco dicevo prima il rischio della religione perché noi noi siamo religiosi non siamo credenti il religioso è chi fa degli atti andare a messa fare una giaculatoria una via crucis sono degli atti e sono convinto che facendo l'atto io sto a posto noi dovremmo imparare a passare dall'essere religiosi all'essere credenti per arrivare ad un altro passaggio testimoni allora quindi se sono un credente io credo in una realtà viva che Cristo è morto e Gesù Sant'Agostino tutti quanti lo credono ma che sia risolto lo crediamo solo noi quindi è il vivente e quindi se è il vivente è vivo e io con il vivo mi devo confrontare allora qui mi devo chiedere quanto mi confronto con lui dice ma dove lo trovo per confrontarmi con lui allora per chi crede sta nei sacramenti la comunità che è la presenza di Cristo la scrittura dove lui ci continua a parlarci come vivente che mi viene incontro però mi devo dire quanto tempo io do all'incontro con la scrittura come cristiani come credenti io non posso dire mi limito a dire a voi durante la messa ascolta la lettura durante la messa e finisce lì come credente non può essere questo se sono credente perché se io sono sposato con mia moglie non posso dire a voi prima una volta a mese o una volta a settimana io ho il bisogno di stare con lei perché ho bisogno di vivere l'amore e quindi per amarla stranamente io per amarla ho bisogno di vivere l'amore più la amo più sento il bisogno di amarla allora più sto con il Signore più sento il bisogno di stare con lui più mi confronto e più allora lui poi getta luce su quello che sto facendo e poi allora come dicevo prima se vivo della parola a un certo punto mi viene fuori proprio davanti attenzione non sarà proprio attenzione però sarà così chiaro il Signore perché poi il Signore non è macchinoso è chiaro e se io davvero vivo questo incontro con lui nella verità e allora saprò anche riconoscerlo perché effettivamente quello che sto facendo se è giusto o se è sbagliato è stato che prima hai parlato di Cristo che è molto dinamico e noi molte volte siamo stati o stiamo a casa o non ci interessa dell'auto e quindi in qualche modo o prendiamo il Cristo se non facciamo un'azione e andiamo incontro all'altro in qualche modo cioè la volta non vedendo Dio nell'altro Cristo nell'altro e quindi offendo anche Cristo cioè non mi metto la segreta di Cristo perché non faccio la sua volontà come dice San Paolo la vita senza l'opera di morte quindi la litigate quindi questo caso in un certo modo offende sì io però più che offendere lui vengo meno nella mia vocazione e vengo anche meno nella mia umanità perché l'umanità per costituzione è fatta per vivere la relazione è bello ieri abbiamo ascoltato ieri e stamattina non mi ricordo quando crea la donna stamattina un aiuto che gli fosse simile l'abbiamo visto anche quando facciamo ricordare la Genesi c'è questa donna che gli sta davanti e quindi lui scopre scopre chi è grazie proprio a una presenza diversa da lui scopre lui chi è e scopre che finalmente si dice questa quindi ecco la relazione quindi è l'altro che ti fa vivere la relazione e ti fa realizzare e non come noi pensiamo ma sto per i fatti miei è bello tranquillo così lasciatemi stare così è un'illusione quella penso che adesso possiamo chiudere ringraziamo il Signore per questa lezione divina viene da dire che vedete come voglio usare solo un'immagine così per è molto bella perché la parola di Dio ecco poi che comunque si incarna sempre attraverso Cristo sempre attraverso il cuore di una persona in questo caso il cuore di un sacerdote vediamo sempre così da se ho visto ho visto bene hai letto 4-5 righe non è del Vangelo non è che abbiamo letto chi sa che cosa ecco è bello vedere e c'è un santo che dice questo nel breviare adesso non mi ricordo chi è bello perché ognuno può attingere sotto questa fontana o questa cascata e bere e la cosa bella è che non finisce mai e che tu puoi andare sempre a attingere questo è un Vangelo che è stato detto ridetto dall'altare però noi vediamo come veramente un cuore ecco lo rende sempre vivificante perché la parola è che è vivificante cosa voglio dire è stato bello e veramente gustiamo questi momenti di grazia che non dobbiamo mai dare per scontato questi momenti di grazia così belli e allora il prossimo appuntamento sarà il 23 febbraio sempre alle 19 un quarto giù di lì e con Don Maurizio seguendo sempre la lezione divina di San Matteo va bene e niente per il ritiro perché qualcuno non c'era io l'ho detto all'adorazione non più il primo aprile ma da definire perché Don Maurizio ha delle cose purtroppo delle priorità e non può muoversi allora le date possibili sono queste così più o meno o il 4 marzo tra poco o l'11 marzo devo vedere un po' anche definendo con la casa dove dovevamo andare a Visciano nel nome nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Ave Maria il Signore il Signore che sia con voi per intercessione di San Girolamo vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen Benediciamo il Signore Buona serata a tutti di San Girolamo